Ecco come una lumaca ha trasformato questo teenager da così a così a così. Nel 2010 il 19enne Sam Ballard stava bevendo con i suoi amici quando videro una lumaca strisciare sul pavimento. Gli amici sfidarono Sam a mangiare quella lumaca. Dopo averlo convinto, lo fece. Pochi giorni dopo Sam cominciò a sentirsi debole e lamentò forti dolori alle gambe. Dopo averlo portato al pronto soccorso, i medici gli dissero che aveva contratto un parassitanotto come verme ratto. Dopo la diagnosi, Sam andò in coma per ben 420 giorni. Quando si svegliò era paralizzato dal basso ventre in giù e costretto a mangiare da un tubo. Aveva bisogno di assistenza 24 ore su 24 e morì 8 anni dopo nel 2018. Se volete fare delle sfide idiote, pensate prima a questa vicenda.